Sono molti mafri che possano andare bene per la vita quotidiana. Mentre c'è l'unico di qualche tipo. Domani portano un colore, un colore di quello, così usiamo un colore di questi qua. Non ci sono gli ostacoli che usano questo tipo di mantra. Si, la venese canne, il buon senatore delicato Ganesh, il mezzo uomo e il mezzo elefante. Le grandi orecchie per un soltare i problemi. Le piccole orecchie per guardare l'astra. Yes. So, that's what the minister of the meditation, he hears. And he's trying to stop the obstacles. That's where we have. So, these are the 10 things. It's easy to learn. So, then you practice that one. The best thing is it's not the religious or anything, it's just the energy. Don't tell me that it's not the religious, it's not the thing, it's always related to energy, etc. Even if it's a paranormal.